Il Boiano aveva iniziato la stagione con il vento in poppa e con il comune al suo fianco ma come succede nel mondo del calcio spesso si fanno solo promesse da marinaio. La società matesina dopo aver constatato che la promessa di un finanziamento fatta dal sindaco di Boiano Antonio Silvestri e l'intenzione del primo cittadino di trovare nuovi imprenditori da affiancare al presidente Giancola e i suoi soci in realtà non sono state altro che parole al vento e il 30 ottobre quindi una settimana fa si è regato in comune ed ha rimesso il titolo della squadra nelle mani del primo cittadino. La risposta è stato un lungo silenzio che ha portato proprio nella serata di ieri il Boiano a rendere nota questa situazione. La scorsa stagione il comune aveva promesso alla società un finanziamento di 20.000 euro ne sono stati versati solo 8.000. Quest'anno Palazzo con la Grossi aveva promesso un altro contributo della stessa cifra quindi la società doveva ricevere circa 32.000 euro dal comune che avrebbero coperto le spese sicuramente fino a Natale. Poi considerati nuovi finanziatori che il sindaco aveva promesso di trovare e i contatti già intavolati dalla società del presidente Giancola la stagione sarebbe stata portata al termine con successo e rispettando anche l'obiettivo stagionale di vincere il campionato. Al centro ci sono mister Caroselle e i suoi ragazzi che hanno intenzione di avere un faccia a faccia con il sindaco di Boiano Antonio Silvestri per avere chiarimenti sul futuro della società e quindi sulla loro stagione.